Sono qui per l'ennesima volta Oggi ho fatto 3 try Due volte cado a Sura L'altra volta sono caduto Prima Ma riuscivo a portarlo via Allora quello che faremo oggi è La challenge Lo ripeto ogni volta perchè non voglio evitare video Quindi ogni volta lo rifarò E la challenge L'obly hug consiste nell'avere L'idea di base è che Si sta a mili sui mob Potremmo avere quindi una basic mini Una dash che vogliamo noi La rob che vogliamo noi ma La dark katana per il critico E tutte le relic messe sono le relic segnate col critico Spirar in typhoon come Ultimate come signature E un a caso tra Fadeway Rhythm La mossa con lo scudo sempre di terra E blazing fire blitz Una cosa così Quella di qua diciamo E vediamo se questa volta cade E' stato un po' allai L'altro polono L'altro carl l'ha fatto con pride Quindi allai è un cavolo Che lui lo fa senza prendere uno di danni mai Non velo come io Non posso farcela Farlo Tra pozioni e oggetti Questo già è ok Anche se a me non piace Veramente Oh 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 Queste cose Mi danno un po' i derby Oh Stai intappolato Molto bene Yeah 14 14 14 Un shot Ah Ah Ok. Guarda bene, vai. Bene, così. Bene. Oh! Meglio inigeare il cuore. Beh, bene. Poi inigeare il cuore. Poteva andare meglio Oh Oh Posso prenderlo Giusto? Sì Aumenta il critico Ah no aumenta il danno critico Ok Oh no ma non posso prender più questo Ok 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 non li ho visti ma i soldi non ne danno più i miei tempi non mi si davano soldi ma i miei tempi non mi si davano 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 ma i tuoi fa molto meglio di tutti gli Averne due fa veramente differenza Grazie per la visione 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 andiamo solta buona 2.30 ma un po' c'ho da un po' Grazie a tutti 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 Grazie a tutti